Musica Cambio al vertice della polizia locale di Cava dei Tirreni. Con un apposito decreto firmato dal sindaco Vincenzo Servalli, Stefano Cicalese è il nuovo comandante della polizia municipale Cavese. Cicalese prende il posto dell'ingegnere Antonino Attanasio, il quale sarà chiamato a portare avanti il piano delle allenazioni, elemento strategico sul quale ruota gran parte del piano di riequilibrio finanziario varato dall'amministrazione comunale lo scorso agosto per cercare di incrementare le entrate dell'ente. L'attuazione del piano di allenazioni, infatti, comporta la necessità di un impegno costante e continuo da parte del dirigente del quarto settore, Antonino Attanasio. Da qui la decisione di trasferire il delicato compito di dirigente ad interim del sesto settore polizia municipale, con funzione di comandante, al dirigente Stefano Cicalese, il quale sarà chiamato a dare attuazione agli indirizzi politici dettati dall'amministrazione comunale in materia di sicurezza. L'incarico parte il prossimo 19 ottobre e si concluderà il prossimo 31 dicembre. Il primo cittadino Vincenzo Selvalli quindi ha ritenuto imprescindibile procedere ad una parziale redistribuzione degli incarichi dirigenziali nell'emore del completamento dell'approvazione di un nuovo assetto organizzativo e alla luce dell'imminente necessità di attivare tutte le misure correttive individuate dall'ente in sede di approvazione del piano di riequilibrio. In virtù di questa rimodulazione degli incarichi dirigenziali, a Stefano Cicalese restano l'anagrafe, lo Stato civile e i sinistri stradali, mentre l'igiene urbana, che prima era di competenza di Cicalese, passa, insieme ai servizi elettorali e giudice di pace, al dirigente del settore finanziario Francesco Sorrentino. Restano invariati, almeno per il momento, gli incarichi di funzione dirigenziali per Luigi Collazzo, Romeo Nesi e Saverio Valio.